A pochi giorni dall'inizio ufficiale della primavera, in Salento scattano già le prove tecniche d'estate e così lì di incominciano a prendere forma, a riorganizzarsi in vista della nuova stagione ed i salentini accendono i motori rispolverando le vecchie, care, amate abitudini. Quindi musica accesa, pomodori tagliate, insalate pronte, sprizze in mojito, caffè in ghiaccio e tutto il litorale salentino, dalle 10.30 in poi, diventa luogo d'incontro per motociclisti, coppie e famiglie. A piedi scalzi o in costume, ognuno secondo la sua dacia si fa baciare da un'estate che in Salento sembra proprio non voler finire mai.